Dopo la pausa estiva, Clivet, azienda bellunese operante da oltre 30 anni nel settore del condizionamento e delle pompe di calore, è tornata pienamente operativa avviando anche la nuova linea produttiva Scinevo dedicata alle pompe di calore monoblocco con refrigerante ecologico, per la quale sono state assunte nuove maestranze attinte dal contesto locale. Tra i valori dell'azienda una particolare attenzione all'ambiente anche investendo sotto vari punti di vista in nuove tecnologie. Abbiamo praticamente messo circa un megawatt e due di pannelli fotovoltaici e quest'anno abbiamo cominciato a vedere i risultati del primo anno, praticamente da inizio anno ad oggi vediamo che il ritorno dell'investimento è anche migliore di quello che ci aspettavamo. Oltre ad aver avuto quindi un ritorno economico importante, ci rendiamo conto che questo ha salvato circa 500 tonnellate di CO2 solo in questi primi sette mesi. Abbiamo anche approfittato per creare delle postazioni di ricarica per le auto elettriche per i nostri clienti quando vengono in visita e quindi direi che questo investimento probabilmente il prossimo anno sarà anche ampliato. Dal 2016 Clivet è entrata a far parte del colosso cinese Midea. Inoltre sono all'orizzonte ulteriori investimenti sempre sul territorio bellunese. Abbiamo voluto investire parecchio in tecnologia e entro quest'anno inaugureremo una nuova sala prove molto grande che ci dà la possibilità di testare le unità in tutte le condizioni di funzionamento che normalmente trovano poi in ambiente a dover affrontare. Praticamente lavoreremo da meno 20 gradi di temperatura fino a più 60 gradi con le condizioni di umidità che normalmente si trovano in ambienti tipo nei deserti oppure anche nei luoghi al nord, in nord Europa. Quindi questo è un investimento molto importante che ci permette anche di migliorare la qualità dei nostri prodotti.